Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Arrivati vicinissimi al Natale, vediamo qual è il calendario per il ritiro delle pensioni imposta per gennaio 2023. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Da martedì 3 gennaio 2023 scatterà il pagamento delle pensioni sia per chi ritira i soldi in posta che per chi li riceve in banca o sul conto postale. Le prime che dovrebbero essere state rivalutate, ma con grande sorpresa nel cedolino di migliaia di pensionati, non è presente l'aumento della rivalutazione. Questo in quanto il governo starebbe rivalutando gli indici definitivi ancora una volta. Ma torniamo a noi. Vediamo dunque quale sarà il calendario del pagamento delle pensioni di gennaio 2023. Martedì 3 gennaio pagamento delle pensioni per i cognomi dalla A alla B. Mercoledì 4 gennaio pagamento delle pensioni per i cognomi dalla C alla D. Giovedì 5 gennaio pagamento delle pensioni per i cognomi dalla L alla O. Sabato 7 gennaio solo la mattina pagamento delle pensioni per i cognomi dalla P alla R. E infine lunedì 9 gennaio pagamenti delle pensioni per i cognomi dalla S alla Z. Anche per chi riceve i soldi sul conto corrente bancario o postale il pagamento arriverà martedì 3 gennaio. Bene e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.